Mi trovo nella città vecchia di Taranto, precisamente in via Duomo, angolo con Vico Porto. Come vedete un'area che è stata messa alla meno peggio in sicurezza con i tubi innocenti come puntelli. Alle mie spalle uno scempio a dimostrazione di come l'amministrazione comunale, al di là delle tante favole che racconta, ha abbandonato il borgo antico di Taranto, la città vecchia. Qui questa zona è stata oggetto di numerosi crolli. Cronologicamente partiamo dal primo crollo del 1994 e poi del palazzo proprio, di uno stabile. E poi nel 29 gennaio di quest'anno, del 2023, si è registrato il crollo proprio di una parte, di un appartamento con danni ai cornicioni, alla facciata e quant'altro. Un appartamento, come dire, collasso. Bene, guardate dalle immagini cosa c'è all'interno nel tratto di strada che è stato murato dall'amministrazione comunale, proprio alla luce del fatto che ovviamente la zona non era praticabile, visti i rischi di crolli. Un porcile mai visto. E questo cosa significa? Che da quel dì, da quando è stata murata, chiusa la strada, nessuno più si è degnato di pulire. Né tantomeno si può dare colpa ai cittadini perché, essendo la strada chiusa da ambo i lati, ovviamente nessuno ha buttato rifiuti. Questo significa che quei rifiuti, tutta questa discarica che c'era, c'era ed è rimasta. E l'amministrazione comunale, prima di murare o eventualmente dopo aver murato, non si è mai degnata di farla ripulire. Quindi immaginate i rischi che si corrono. Questa è l'amministrazione targata Rinaldo Melucci, questa è l'immagine che dà il vice sindaco Manzulli. Quando poi si parla di cultura, di spettacoli e Marti si sciacqua tanto la bocca, questi signori, il sindaco, il vice sindaco e la giunta dovrebbero farsi un giretto là dentro. E proprio questo per farvi capire l'assoluta mancanza di rispetto verso la città. Oltre che vengono violate pesantemente le norme igieniche, perché chiaramente con un porcile si fatto, lì dentro può esserci appunto di tutto di più. Era ed è così difficile operare una bonifica? Praticare un minimo di civiltà? Caro Melucci, è questa la rinascita di Taranto? È questo il meglio che deve ancora venire? Scusatemi se mi ripeto, ma quando vedo certe oscenità, proprio mi ribolle il sangue e vedo la falsità e l'ipocrisia del sindaco, della sua giunta e della sua maggioranza nel momento in cui parlano di rinascita, di riqualificazione del borgo antico. Questi mentono sapendo di mentire, si vergognassero.